Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria, Paganesimo, seconda parte dai microfoni Radio Gama 5. Allora, prima iniziale della trasmissione vi ricordo che comunque Radio Gama 5 mantiene sempre quelle necessità economiche che ha manifestato nei mesi scorsi. Quindi, indubbiamente, avendo risolto tutta una serie di problemi che si sono presentati e avendo avuto tutto quell'appoggio incredibile anche da parte dei radioascoltatori, molti problemi sono stati affrontati e sono stati intanto tamponati, nel senso che si è arrivato a un momento di fermare quella che era la drammaticità che invece ci stava assalendo in maniera preponderante fra agosto, settembre, ottobre fino a novembre, diciamo. L'apporto dei radioascoltatori è stato veramente eccezionale, è stato un gesto veramente profondo e non solo ci ha permesso di continuare a trasmettere dei microfoni di Radio Gama 5, ma ci ha permesso anche di avere quella sicurezza di poter affrontare con più tranquillità quelli che sono i problemi che si presentano, insomma, il prossimo futuro della radio. Purtanto, un ringraziamento sempre ai radioascoltatori e qualcuno che si era dimenticato, che non ha potuto dare una mano, che avrebbe voluto farlo e si ricordi che è sempre benvenuto e noi siamo sempre pronti, insomma, a ringraziare sempre chiunque ci dà la mano e a risolvere comunque questi problemi. Intanto un grazie a tutti quelli che hanno contribuito. Nella trasmissione di questa sera inizierò il ciclo sulla percezione, perché parlare della percezione significa parlare dei fondamenti della stregonaria, cioè in pratica significa parlare per come si legge il mondo, per come il mondo si analizza, per come il mondo lo si affronta e per come il mondo lo si fonde. Quando vi ho letto oggi quell'aberrazione di quell'articolo a proposito della riunione del Grissa, che i cattolici censurano il fatto che il mondo possa essere diverso da come noi lo descriviamo. E in effetti il mondo è diverso da come noi lo descriviamo. Pensate soltanto a un aspetto del mondo, no? La scienza ci dice che la maggior parte della materia nell'universo in realtà è materia nera, cioè è materia che noi non vediamo né percepiamo. Pertanto il mondo è fatto anche dalla materia nera, solo che noi non la percepiamo. Per cui noi non abbiamo la descrizione di ciò che il mondo è, ma abbiamo la descrizione solo per ciò che il mondo ci appare. E questo è un elemento importante per riuscire a capire anche che cos'è la stregonaria. Perché se il mondo è fatto da un infinito numero di cose diverse, da quelle che noi siamo in grado di descrivere, comunque quelle cose intervengono sempre nella nostra vita, cioè agiscono nella nostra quotidianità. E noi siamo sottoposti a tutto un martellamento di tutti questi fenomeni che ci arrivano e che noi, sì, magari li riconosciamo come sollecitazioni, come fastidi, come necessità, come impellenze, come cose che ci fermano il fiato in gola, però non siamo in grado di dare una descrizione, perché non riusciamo a considerarli degli oggetti o riferirli a degli oggetti. Per cui il concetto di percepire il mondo è un concetto che è fondamentale nella vita di tutte le persone. Naturalmente, cosa vi dicono i cristiani? Che il mondo è esattamente come tu lo vedi. Però, il problema è che non è che il mondo sia esattamente come io lo vedo, ma per i cristiani è che il mondo deve essere come lui lo pensa. Perché sono due cose diverse dire il mondo è per come io lo vedo e il mondo è per come io lo penso. Perché, se io dico il mondo è per come io lo vedo, ciò non significa che migliorando la mia vista, perché sono diventato orbo e metto gli occhiali, oppure peggiorando la mia vista perché divento orbo, io posso vedere comunque il mondo e comunque posso agire nel mondo sia che io lo veda bene, sia che io lo vedo male. Ma diverso è se il mondo è come io lo penso. Perché allora tutte le mie illusioni, tutte le mie fantasticherie diventano di fatto degli oggetti reali. Per cui non è più la realtà ciò che accade sotto i miei sensi, ma la realtà diventa ciò che io immagino. E allora non è più i fenomeni del mondo che arrivano da me e io affronto il mondo per come io riesco a leggere i fenomeni del mondo. Ma diventa la mia fantasia, le mie fantasticherie vengono proiettate sul mondo e io pretendo che il mondo sia come io voglio che sia. Allora non è più una questione di percezione, non è più il fatto che il mondo è come è, ma il mondo è come io voglio che sia, cioè come le mie fantasie devono costringere il mondo ad essere. Ed è questo in realtà il cristianesimo. Non è che il cristianesimo sia razionale perché considera il mondo per ciò che è, ma il cristianesimo è follia perché pretende che il mondo sia secondo la sua immaginazione del mondo. Il cristianesimo non verifica il fatto che il mondo sia stato creato 4.000 anni avanti Cristo, ma immagina che il mondo sia stato creato 4.000 anni avanti Cristo. E questa immaginazione diventa percezione, diventa elemento a prioristico dal quale un individuo deve partire per fare il suo discorso logico. Cioè da una cosa assolutamente illogica, da una follia immaginata, ne discende un discorso logico. Un discorso logico che può essere funzionale solo là dove la follia immaginata non rientra negli oggetti di analisi. Per esempio, nessuno viene mai fregato niente a mettere in discussione la creazione del mondo finché tu non hai necessità di conoscere la sedimentazione delle rocce all'interno delle aeree geologiche per stabilire quali di queste rocce possono avere certi idrocarburi o non averli. O in quale rocce è possibile trovare certi metalli, certe condizioni o in altre. Cioè quando la geologia ha delle richieste di analisi dei terreni. Allora in quel momento di fatto la persona utilizza degli elementi evoluzionisti e non più creazionisti. Praticamente arriva a dire milioni e milioni di anni. Sedimentazione delle rocce per milioni di anni. E allora ecco che quello che è il concetto di creazione diventa fuorviante all'interno delle necessità di introspezione, delle necessità di analisi di quello che è il sistema delle rocce, di quello che è anche la deduzione dei sedimenti e tutto il resto. Però finché l'idea di creazione non entra in contrasto, non entra in contraddizione con quella che è la vita delle persone, le persone non gliene frega niente di mettere in discussione il concetto di creazione. Come non gliene frega niente di mettere in discussione il fatto che sia il sole che gira attorno alla terra o che sia la terra che gira attorno al sole. Perché? Perché li metti in discussione quando vai a fondare il nuovo. Cioè quando il fatto che sia la terra a girare attorno al sole diventa importante per il calcolo delle liste, diventa importante per il moto dei pianeti, diventa importante per il discorso scientifico, diventa importante per sapere come funziona il mondo in cui viviamo, diventa importante per altre cose. Però se le persone vengono ridotte in una situazione tale per cui non è importante conoscere ciò che è la vita, la vita per ciò che è, le persone vengono trattenute all'interno dell'immaginazione. Cioè quell'immaginazione che non è altro che l'illusione, non è altro che la proiezione di una fantasia morbosa come quella della creazione, come quella della Bibbia, sulla vita davanti alla quale fantasia si piegano gli uomini perché quella fantasia è la realtà. E questo è il cristianesimo. Allora detto questo andiamo ad affrontare invece ciò che è la percezione e essenzialmente non è che interessa ciò che è la percezione ma come la percezione si forma. Cioè quello che noi in stragonaria dobbiamo riuscire a comprendere sono i cammini di libertà. Perché io ho questa percezione? E perché spesso guardo delle cose e ne vedo altre, mi illudo, ho delle allucinazioni, ho delle percezioni extrasensoriali. Qual è la qualità di queste percezioni extrasensoriali? Come entrano nel gioco della mia percezione? E perché alcune persone hanno delle percezioni extrasensoriali maggiori di altre? E che cos'è la percezione extrasensoriale? Cioè tutte queste risposte dobbiamo dare all'interno del discorso della percezione e dobbiamo capire esattamente l'insieme all'interno del quale si costruisce la percezione. Perché per esempio delle persone vedono con le mani o affermano di vedere degli oggetti con le mani quando toccano con le mani? La scienza ci dà delle spiegazioni e queste cose dobbiamo affrontare. Nel discorso sulla percezione farò una cosetta cioè non dirò come si forma la percezione o meglio dirò come si forma la percezione ma come si forma la percezione della stragonaria cioè i percorsi di stragonaria li abbinerò a quelle che sono le recenti ricerche scientifiche per cui io per fare questo lavoro sulla percezione che è un lavoro che finora ha raggiunto un centinaio di cartelle circa e quando sarà finito sarà abbastanza corposo diciamo così ho raccolto tutta quella rassegna stampa che ho fatto in tutti questi anni in cui arrivavano tutte le informazioni scientifiche relative alle scoperte della scienza della medicina neuronale alla TAC che si fa al cervello alla non ricordo più come si chiama comunque lo troveremo poi nei corsi di discorsi per riuscire anche a capire tutto il sistema nervoso come sono le connessioni neuronali cosa si accendono nelle varie situazioni e in più le analisi che sono in psicologia in psicologia natale e psicologia prenatale gli studi sul cervello sul dispensimento della corteccia cerebrale le connessioni fra il cervello destro e il cervello sinistro i neuroni specchio e tutto quello che è stato scoperto in questi ultimissimi anni naturalmente uso un tipo di articoli preciso cioè uso gli articoli della stampa quotidiana perché? perché è vero che se io compro scienza compro un giornale specializzato scientifico ho notizie maggiori cioè ho notizie più dettagliate più approfondite ma a me non mi interessa la scienza in se stessa cioè io capisco che se uno fa un lavoro scientifico ha bisogno di notizie dettagliate ma io faccio un lavoro di costruzione della stragonaria cioè quello che a me interessa è dire alle persone attenzione che facendo queste azioni agendo in questo modo si ottengono degli effetti quando si è davanti a degli effetti adattandoci in un certo modo o adattandoci in un altro modo si costruisce e si modifica se stessi cioè ciò che a me interessa essenzialmente è confermare la stragonaria cioè o capire se la stragonaria sbaglia o se si può fare qualcosa di diverso pertanto mi sono sufficienti gli articoli di giornale dei giornali quotidiani e mi sarebbe un di più fare le notizie dei giornali specializzati dei giornali scientifici pertanto sentirete praticamente titoli di giornali di quotidiani questi pezzi io pagina per pagina poi li carico anche su internet e su internet ho aperto un indice nel sito federazionepagana.it è fatto per argomenti e ci sono tutta una serie di indici per i vari argomenti per esempio le pagine sulla premorta sull'NDE trovate un indice che vi da tutte le pagine oppure il crogiolo dello stragone c'è un indice che vi da tutte le pagine del crogiolo dello stragone oppure un indice per i pezzi relativi alle antiche religioni un altro indice per i fondamenti del paganesimo un altro indice per i testi sul male relativi al cristianesimo trovate tutta una serie di indici diciamo così per argomenti questo indice che ho aperto è l'indice percezione pertanto se qualcuno vuole andarci direttamente l'indirizzo è http www.federazionepagana.it barra indice percezione punto html comunque ci arrivate sempre per i soliti passando per esempio per il crogiolo dello stragone l'indice crogiolo dello stragone invece è ind crogiolo punto html bene e l'indice è presentato in questo modo ma un attimino se ai 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 dove diavo adesso ho messo gli occhiali domanda ai 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 questo non mi ci voleva va bene facciamo che senza occhiali visto che riusciamo a fare lo stesso l'indice è praticamente presente in questo modo percezione e stregoneria sulla formazione della percezione e la selezione dei fenomeni percepiti la stregoneria è l'arte di costruire la vita la stregoneria non separa dalla vita non separa non è separata dalla vita ma è all'interno della società degli uomini la stregoneria è organizzazione dell'azione nel mondo in cui un individuo vive ed è ben consapevole la stregoneria che nel mondo sociale migliaia di uomini analizzano ed agiscono per comprendere razionalmente i meccanismi della vita la stregoneria si deve misurare con i risultati che giungono dei laboratori psicologici e neurologici del mondo la stregoneria non pretende di misurarsi con la scienza ma usa la scienza e i dati scientifici diffusi mediante la stampa non specializzata in quanto informazioni capaci di incidere nella vita comune degli esseri umani per verificare la correttezza delle proprie scelte la stregoneria manipolava erbe qualche volta intruglie di dulcamara bella donna uva di volpe facevano molti danni alle persone la scienza ci ha detto perché la stregoneria è il fondamento degli uomini affinché guardino in maniera coerente la vita quotidiana la scienza ci può dare qualche idea su come ciò funziona perché e su ciò che non funziona si tratta di verificare attraverso le informazioni divulgative del mondo scientifico le idee della stregoneria in relazione alla percezione del mondo le idee della stregoneria sulla formazione della percezione nell'individuo per questo motivo in questo indice trattiamo sulla formazione della percezione dell'individuo partendo dalle idee della stregoneria in relazione alle informazioni scientifiche che ci giungono dalla stampa popolare divulgativa il progetto in questo momento svolge sette temi cinque pronti e due in lavorazione e saranno caricati a mano a mano che saranno presentati nelle trasmissioni radiofoniche di Radio Gamma 5 iniziando da giovedì 7 dicembre 2006 sette temi uno è l'introduzione due la madre come mondo la fondazione della percezione dell'età fetale 3 la selezione soggettiva della percezione 4 selezione della percezione nella prima infanzia 5 selezione della percezione nell'età adolescenziale 6 empatia e percezione extrasensoriale 7 percezione ed elementi di omosessualità questi sono i temi che svolgerò all'interno della percezione naturalmente oltre a questi poi ci sono i testi sulle allucinazioni sulle illusioni che abbiamo già fatto e alcuni che devo ancora fare qui in radio in modo di dare una completezza di quelle che sono le capacità dell'uomo di vedere e di analizzare la vita e la parte che faremo questa sera è percezione sulla formazione della percezione la selezione dei fenomeni percepiti ed è l'introduzione l'introduzione ha una caratteristica ha la caratteristica di collocare esattamente il lavoro che stiamo facendo nell'insieme nel discorso sulla percezione normalmente viene ignorato l'aspetto secondo cui la percezione dei fenomeni del mondo seleziona nell'individuo la capacità di selezionare la percezione dei fenomeni del mondo e qui cominciamo ad affrontare un piccolo casino in pratica ciò che si ignora sulla percezione è che percependo si selezionano i fenomeni che selezionano la percezione per cui la nostra capacità di percepire non è altro che una selezione della capacità di percepire un insieme in pratica noi crescendo abbiamo selezionato il nostro modo di percepire i fenomeni del mondo si tratta di comprendere che ogni essere della natura è all'interno di un processo di crescita che comprende un percorso di selezione della percezione gli esseri umani vivono in un insieme immenso nel quale costruiscono la loro specifica percezione se nell'immenso che ci circonda selezioniamo dei cerchi di conosciuto andremo a costruire dei cerchi di conosciuto entro dei cerchi di conosciuto selezionando un'area sempre più piccola partendo dalla natura con il cerchio più grande e procedendo con cerchi sempre più piccoli relativi alle singole specie ai singoli individui ai singoli individui delle singole specie ai singoli individui delle singole specie nei tempi culturali ed oggettivi della loro attualità l'immenso sconosciuto in cui l'individuo viene generato viene ridotto da questi alla propria dimensione nella situazione culturale in cui questi si trova a vivere attraverso un processo di selezione continua della propria percezione il motivo è questo cioè noi non comprendiamo il mondo ma è il mondo che ci comprende cioè noi siamo all'interno del mondo comprendere non capire ma tenere dentro essere all'interno la natura è un insieme di esseri viventi e come coscienza come consapevolezza di insiemi comprende tutti gli esseri che la compongono per cui noi siamo compresi nella natura noi non comprendiamo la natura anche dal punto di vista intellettuale ma mi interessa dal punto di vista della comprensione totale cioè dell'appartenenza a dell'essere all'interno lo stesso vale come specie la specie umana non comprende la natura la natura comprende la specie umana perché la specie umana è all'interno della natura però la specie umana nel suo insieme comprende il singolo individuo che però non comprende la specie umana in quanto ne è all'interno e la specie umana a sua volta non comprende la natura in pratica noi abbiamo un insieme dal quale selezioniamo un sotto insieme la natura è un insieme il sotto insieme è la specie umana la specie elefante la specie virus la specie battere la specie in questi sotto insiemi noi ricaviamo un altro sotto insieme che è l'individuo l'individuo elefante l'individuo essere umano l'individuo essere battero in questo sotto insieme potremmo ricavare degli altri sotto insieme ve li ho già fatti una volta questo però in questi sotto insiemi vediamo come la nostra percezione viene selezionata cioè viene adeguata a ciò che noi siamo e a ciò che noi siamo anche nell'età culturale nel tempo che noi in cui noi siamo nati e che viviamo se l'area del cerchio che rappresenta la percezione delle singole persone può subire degli spostamenti di collocazione all'interno del cerchio che rappresenta mai uscire dal cerchio in cui è compreso che rappresenta la percezione soggettiva della propria specie le trasformazioni temporali che avvengono per gli esseri viventi della natura modificano la specie modificando sia il cerchio della percezione che rappresenta la propria specie sia la collocazione del cerchio che rappresenta la percezione soggettiva della propria specie all'interno del cerchio di percezione che rappresenta la totalità della percezione della specie della natura la nuova generazione si trova a dover selezionare il proprio cerchio percettivo per la propria esistenza partendo dalla capacità di percepire e dagli strumenti con cui percepisce che la specie nel corso dei milioni di anni ha selezionato per il nuovo nato il processo di divenire per sedimentazione e selezione viene registrato nel DNA degli esseri umani che dimostra i legami fra ogni specie della natura legami che si possono e si devono riferire anche alle capacità di percezione comune fra tutti gli esseri della natura si devono riferire anche alla capacità di comunicazione e interazione fra gli esseri della natura spiegazione se io ho Stefano qui fuori e mi metto a urlare e Stefano vieni è una forma di comunicazione che io come essere umano faccio con un altro essere umano cioè con Stefano ma quando la nostra specie era fatta da un essere unicellulare non è che si mettesse a urlare ma aveva un'altra esigenza comunicativa e comunicava quando le specie si sono diversificate sono cresciute hanno messo dei nuovi sensi con cui percepire il mondo non è che la comunicazione di quando eravamo essere unicellulari sia sparita ce l'abbiamo sempre dentro di noi solo che non la usiamo cioè non è più così importante come quando eravamo esseri unicellulari pertanto quel tipo di comunicazione l'abbiamo dentro solo che non la usiamo più usiamo parlare usiamo guardare usiamo palpare con le mani o sentire gli odori ma non abbiamo più quel tipo di comunicazione cioè non usiamo più quel tipo di comunicazione però c'è dentro e quel tipo di comunicazione in realtà ci lega a tutti gli esseri della natura perché tutti gli esseri della natura provengono da unici esseri unicellulari e provengono per sedimentazione successiva cioè per costruzione successiva della propria catena del DNA della propria struttura emotiva da proprio modo di agire nella vita pertanto quelle che erano le modalità di comunicazione di allora le abbiamo dentro anche se magari non le usiamo però le abbiamo dentro e non è vero che non le usiamo perché percepiamo ma per entrare dentro in questo tipo di discorso dobbiamo inoltrarci sulla comunicazione emozionale sulla comunicazione emotiva che dovrebbe essere anche uno dei lavori che farò magari più completamente anche se già ne ho affrontato parecchie cose più avanti però avrei preferito avere gli occhiali allora questo presupposto è il fondamento del ragionamento che si vuole fare per iniziare ad affrontare il discorso sulla formazione della percezione dell'essere umano iniziamo dal concetto di percezione cosa ci dice il dizionario di filosofia insieme di funzioni psicologiche che permettono all'organismo di acquisire informazioni circa lo stato e i mutamenti del suo ambiente grazie all'azione di organi specializzati quali la vista l'udito l'olfatto il gusto del tatto insieme di funzioni psicologiche che permettono all'organismo di acquisire informazioni circa lo stato e i mutamenti del suo ambiente per esprimere questo tipo di concetto è necessario considerare il soggetto l'individuo come un ente statico cioè l'individuo che siamo ora l'analista prende un individuo e afferma che la sua percezione è insieme di funzioni psicologiche che permettono all'organismo di acquisire informazioni circa lo stato e i mutamenti del suo ambiente grazie all'azione di organi specializzati quali la vista l'udito l'olfatto il gusto del tatto l'analista non si chiede perché esiste una non percezione non si chiede che cosa il soggetto non percepisce e non se lo chiede perché quanto il soggetto non percepisce non rientra nelle sue azioni e nemmeno lo può descrivere all'analista fin tanto che il fenomeno non viene percepito dal soggetto il fenomeno per il soggetto non esiste e anche se quel fenomeno dovesse entrare nella sfera percettiva di un soggetto questi non lo riconoscerebbe ma lo descriverebbe per come quel fenomeno agisce su di lui però quanto percepisce e descrive in maniera diversa viene riconosciuto dall'analista come allucinazione oppure come illusione le informazioni che un organismo acquisisce sono riconosciute come tali nella misura in cui vengono manifestate ma quando tali manifestazioni sono riconosciute come illusioni o come allucinazioni l'organismo ha comunque acquisito informazioni o non informazioni a seconda di come lo si vogliono considerare e le ha elaborate molte idee sono state formulate dalla filosofia nel corso dei millenni queste idee sono sempre quando avevano la forza di affermarsi state poste a fondamento dei comportamenti umani per costruire una base su cui i singoli individui e le singole generazioni nelle loro culture potessero costruire la loro conoscenza nelle relazioni con il mondo il discorso sulla percezione è stato troppo spesso racchiuso in una serie di posizioni che si contendevano la spiegazione sull'origine della percezione proviamo a leggere da un dizionale di filosofia l'origine della percezione uno dei problemi tradizionali della percezione è se la nostra capacità di percepire è frutto di apprendimento o invece è innata la disputa è antica e ha diviso i filosofi che se ne sono occupati in innatisti come Descartes Leibniz ed empiristi come Luke o Berkeley che sostenevano che noi impariamo a percepire in un certo modo in base all'esperienza degli oggetti che fanno parte del nostro mondo la psicologia sperimentale ha confortato questa seconda posizione non smentita neppure dalla comune osservazione che per lo sciatore esperto è in grado di percepire la differenza fra i vari tipi di neve che può sfuggire alla percezione di chi non vive nell'ambiente oppure parole scritte erroneamente vengono lette correttamente perché la conoscenza di ciò che dovrebbe essere alla meglio su ciò che è lo stesso discorso gli esperimenti con particolari occhiali che producono deformazioni grossolane come dell'alto e del basso del campo visivo o deformazioni sottili come lo spostamento dello sguardo a destra o a sinistra in tutti questi casi si è assistito a un riadattamento percettivo della nuova visione del mondo per effetto dell'influsso della precedente ciò non toglie che animali allevati da piccoli nella completa oscurità rivelano difetti alla retina per cui si è dedotto che una certa quantità di luce è necessaria per lo sviluppo anatomico del sistema ottico da qui si è dedotto che sia il processo di maturazione sia l'esperienza interagiscono nello sviluppo delle capacità percettive e questo è quanto ci dice la psicologia e la filosofia la conoscenza dell'uomo è formata dalla sua capacità di percepire i fenomeni provenienti dal mondo selezionarli metterli in relazione con altri per produrre azioni o atteggiamenti da assumere nei confronti del mondo se c'è stato un tempo in cui l'individuo formava la propria percezione adattandosi ai fenomeni provenienti dalla natura nel corso degli ultimi millenni la percezione degli uomini in molte culture si è formata adattandosi a fenomeni provenienti dalle culture delle società umane percepire il mondo significa renderci consapevoli che il mondo esiste che esistono fenomeni nel mondo e che questi fenomeni agiscono su di noi significa renderci consapevoli che a questi fenomeni noi rispondiamo che poi la consapevolezza dell'azione dei fenomeni del mondo su di noi raggiunga la nostra ragione o si collochi al di sotto di essa e venga definita in modo vario come istinto subconscio noi comunque reagiamo alle sollecitazioni del mondo noi a quelle sollecitazioni ci adattiamo le idee che noi abbiamo sulla percezione dei fenomeni del mondo sono il risultato dell'elaborazione soggettiva del nostro percepito e dei suoi adattamenti le idee che abbiamo sulla formazione della nostra percezione sono quelle che ci permettono o ci costringono ad agire sulla percezione stessa nel contempo da quelle idee la nostra percezione viene guidata per selezionare i fenomeni che dal mondo ci giungono in questo lavoro prenderò in considerazione i fenomeni che giungono dal mondo la percezione dell'individuo i suoi adattamenti percettivi ai bisogni che giungono dal mondo la modificazione della sua percezione dei fenomeni che giungono dal mondo la prima cosa che dobbiamo considerare è la quantità del fenomeno la qualità del fenomeno che noi percepiamo un fenomeno che ci giunge nel mondo non è un oggetto singolo anche se la nostra percezione tende a semplificarlo ogni fenomeno che ci giunge è portatore di tutto l'insieme spazio-temporale che quel fenomeno ha generato questo genera il primo caos nel soggetto che percepisce se il fenomeno singolo è in realtà portatore di tutto l'insieme senza il quale il fenomeno singolo nella nostra percezione non sarebbe significa che quel singolo non appartiene al fenomeno ma alla mia capacità di isolare il fenomeno dall'insieme che lo genera la costruzione di questa capacità è l'arte della natura la costruzione della percezione di un soggetto deve avvenire in un mondo ristretto circoscritto che pur inondando il soggetto il nuovo soggetto di fenomeni tale inondazione sia tale da rendere fertile l'individuo senza soffocarlo lo faccia crescere senza farlo impazzire nell'immenso lo faccia crescere specializzando la propria capacità di percepire in relazione al mondo nel quale si troverà a nascere il seme l'uovo la pancia della madre la partenogenesi assumiamo come punto di riferimento la madre con un figlio in pancia e semplifichiamo le relazioni la madre è un divenuto nella società umana che è divenuta nella natura la madre al figlio che è in pancia trasferirà attraverso le proprie emozioni e i propri stati psichici le condizioni fondamentali che vive nella specifica società umana che a sua volta si è adattata nella specifica natura e nello specifico divenuto delle società umane le condizioni imposte dalla società umana in quella natura saranno trasferite attraverso la madre al nuovo nato ma non saranno trasferite al nuovo nato per come si presentano ma sotto forma di impulsi emotivi con cui la madre accompagnerà le risposte di adattamento a tali condizioni al nuovo nato la madre trasferirà la sua specifica condizione di adattamento nella società umana si tratta di un complesso di relazioni psico emotive che vanno a costruire il mondo in cui il feto si costruisce condizioni psico emotive che si trasferiscono sul feto anche mediante condizioni fisiche in quanto ogni trasformazione fisica della madre si trasferisce nel piano psico emotivo così ogni stato psico emotivo vissuto dalla madre alimenta delle trasformazioni fisiche che vengono percepite dal feto e nei confronti delle quali il feto mette in atto i suoi processi adattativi i processi adattativi del feto sono guidati dalla madre e dai suoi processi adattativi nella società degli uomini i processi adattativi nella società degli uomini sono rivolti alla madre e riassumono i processi adattativi che la società degli uomini ha fatto nella natura e attraverso la natura natura società degli uomini madre stiamo semplificando costruiscono i limiti adattativi del feto nel contempo costituiscono la guida affinché gli adattamenti del feto siano funzionali a costruire quella qualità di percezione utile al feto per adattarsi nella società degli uomini in cui nasce se in stragonaria questi processi erano già conosciuti la scienza sta sperimentando e verificando da alcuni anni i meccanismi che producono queste trasformazioni anche se troppo spesso non interpreta come meccanismi dinamici complessi ma quasi sempre come relazioni semplici e meccanicistiche troppo spesso usa l'espressione risposta di riflesso quando si parla della conoscenza di un soggetto stiamo parlando del divenuto di quel soggetto la conoscenza assoluta di un soggetto si costruisce nel suo divenire nella natura la conoscenza esprime la gloria del singolo individuo nel momento della morte del corpo fisico la conoscenza di un soggetto è la sua capacità di penetrare il mondo in cui vive svelarlo e agire al suo interno fondando la propria esistenza partendo dalla considerazione che la conoscenza è una selezione soggettiva del conoscibile operata mediante la percezione e gli adattamenti di un individuo cerchiamo di comprendere le nuove informazioni che ci giungono dalla scienza neurologica e dalla neuropsichiatria degli ultimi tempi e questo è il motivo introduttivo il motivo introduttivo dell'analisi della percezione è esattamente il comprendere di vivere in un immenso e dal momento che ho ancora venti minuti per riuscire a farvi capire il concetto di questo vivere nell'immenso vi do lettura però in venti minuti mi sembra che sia un po' stringata di un articolo apparso qualche anno fa e che credo che adesso sia all'interno di qualche libro che è a firma di Rifkin Jeremy e fece epoca quando uscì questo articolo dal titolo Anche i maiali piangono e fu fatto dall'Espresso qualche anno fa perché è importante riuscire a capire che noi siamo una parte dell'insieme ed è il concetto chiave il concetto base il concetto fondamentale della stregonaria essere parte di un insieme in trasformazione vi do la lettura veloce di questo articolo anche se torno a ripetere venti minuti no forse non conviene è troppo è molto lungo l'articolo in se stesso è abbastanza lungo sono tre pagine abbastanza complesse dovrei essere molto veloce niente ve ne faccio solo una piccolissima parte la parte finale dice quest'articolo le nuove scoperte dei ricercatori sono però una voce isolata rispetto alla concezione sposata dalla scienza ortodossa no non è questo che voglio dire vediamo un attimino sì le nuove scoperte di ricercatori sono sta parlando di ricercatori in neurologia del comportamento animale sono però una voce isolata rispetto alla concezione sposata dalla scienza ortodossa ricordate che è stato Descartes il grande scienziato e filosofo dell'illuminismo a descrivere gli animali come autonomi senza anima e quei movimenti si distinguevano appena da quelli dei pupazzi meccanici che ballavano intorno all'orologio di Strasburgo fino a tempi molto recenti gli scienziati sostenevano ancora che il comportamento della maggior parte delle creature era dovuto semplicemente al mero istinto e che quello che poteva sembrare comportamento appreso altro non era che un'attività geneticamente trasmessa ora sappiamo che le anatre devono insegnare i percorsi migratori ai loro natroccoli stiamo infatti imparando che l'apprendimento viene quasi sempre tramandato dal genitore ai figli e che la maggior parte degli animali si imbattono in diversi tipi di esperienze apprese assimilate dagli esperimenti continui dal tentare di risolvere problemi attraverso errori e riprove perciò cosa ci dice tutto questo rispetto al modo in cui noi trattiamo le creature simili a noi che dire delle migliaia di animali che ogni anno vengono sottoposti a dolorosi esperimenti di laboratorio o dei milioni di animali domestici cresciuti nelle condizioni più disumane destinate al macello e al consumo umano dovremmo vietare le trappole per bloccare le zampe e scoraggiare l'acquisto o la vendita di pellicce e l'uccidere gli animali nello sport la caccia alla volpe nelle campagne inglesi la corrida in Spagna le battaglie fra i gali in Messico lo spettacolo fra i leoni salvaggi vanno rinchiusi nelle gabbie degli zoo o gli elefanti vanno visti esibire nei circhi queste domande oggi cominciano ad apparire nelle aule dei tribunali e nelle legislazioni di tutto il mondo a Howard in altre 25 facoltà di giurisprudenza nei soli Stati Uniti sono stati introdotti dei corsi sul diritto degli animali e nel sistema processuale sta facendo capolino un crescente numero di casi riguardanti al diritto degli animali recentemente la Germania è diventato il primo paese al mondo a sancire il diritto degli animali nella propria costituzione la discussione globale sul comportamento animale sta emergendo nello status dei diritti quello che stanno scoprendo i ricercatori è sconvolgente sembra che molte di queste creature animali somiglino a noi molto più di quanto non si possa immaginare gli animali sentono il dolore e la sofferenza conoscono lo stress l'affetto l'eccitazione e persino l'amore alcuni studi del Purdue University negli USA sul comportamento sociale dei maiali hanno dimostrato per esempio che questi si deprimono facilmente quando sono isolati e se gli è negato di giocare con gli altri la carenza di stimoli mentali e fisici può portare al peggioramento della salute e ad una crescente incidenza di diverse malattie l'Unione Europea si è presa a cuore questi studi mettendo fuori leggi i porcili al chiuso isolanti e ordinando che entro il 2012 vengano sostituiti da porcili all'aria aperta in Germania il governo sta incoraggiando gli allevatori di maiali a dare ad ogni maiale 20 secondi al giorno di contatto umano e di dargli anche due o tre giocattoli per evitare che litigano fra loro la ricerca sui maiali rivela solo la superficie di ciò che sta avvenendo in questo nuovo ed esplosivo campo di ricerca sulle emozioni animali e le abilità cognitive i ricercatori sono rimasti colpiti dalla pubblicazione di un articolo sulla prestigiosa rivista scienze nella quale venivano descritte le abilità concettuali dei corvi della nuova caledonia gli scienziati di oxford university hanno dichiarato che in una serie di esperimenti controllati è stata data a due uccelli betti ed abel la possibilità di scegliere fra due strumenti un cavo dritto e uno uncinato per sfilare un pezzo di carne da un tubo tutti e due hanno scelto il cavo uncinato ma abel il maschio dominante ha sottratto l'uncino a betti lasciandole solo il cavo dritto betti niente affatto demoralizzata ha incuneato bruscamente nel cavo il becco con il quale l'ha poi piegato in modo da creare un uncino come quello che le era stato rubato poi ha infilato il cibo ha sfilato il cibo dal tubo i ricercatori hanno ripetuto l'esperimento altre dieci volte dandole solo cavi dritti e lei ne ha fatto un uncino per nove volte dimostrando una sofisticata abilità nella creazione di strumenti poi c'è la storia di Alex il papagallo africano grigio in grado di svolgere compiti che si pensava fosse di esclusivo dominio degli esseri umani Alex può identificare più di 40 oggetti a 7 colori e riunire e separare gli oggetti per categorie è persino capace di apprendere concetti astratti come uguale o differente di risolvere problemi in base alle informazioni che gli vengono fornite altrettanto stupefacente è Coco un gorilla di 150 kg al quale è stato insegnato il linguaggio dei segni ne ha imparato più di mille e capisce diverse migliaia di parole inglesi nei test per misurare il quoziente di intelligenza degli umani Coco raggiunge un punteggio fra i 70 e i 95 collocandosi nella categoria di coloro che apprendono più lentamente ma non in quella dei ritardati l'abilità di costruire strumenti e lo sviluppo di linguaggi e sofisticati sono solo due dei tanti attributi che pensavamo appartenessero esclusivamente alla nostra specie l'autoconsapevolezza ne è un'altra ancora i filosofi e gli studiosi del comportamento animale hanno discusso a lungo dal fatto che gli altri animali non hanno autoconsapevolezza perché manca loro un senso di individualismo ma secondo studi recenti non è così un ricercatore austriaco Peter Kernica sostiene che negli esperimenti i delfini sembravano superare i test sulla consapevolezza riconoscendosi negli specchi al National Zoo di Washington gli orangotango a cui vengono dati degli specchi esplorano le parti del loro corpo che non riuscirebbero a vedere altrimenti dimostrando un senso del sé e vi ricordo che in uno degli ultimi esperimenti si è dimostrato che anche gli elefanti riconoscono se stessi ma anche i cosi anche i polipi riconoscono se stessi pertanto tutto questo discorso semplicemente per dirvi che noi apparteniamo a tutto quell'insieme della natura in cui siamo legati e col quale abbiamo emozioni abbiamo conoscenza abbiamo comunicazione continua e sistematica anche se fingiamo di non averla anche se ignoriamo di non averla va bene il prossimo la prossima volta invece vi farò il capitolo la madre come mondo la fondazione della percezione nell'età fetale e comincieremo a definire anche il concetto di dolore e questo sarà ciò che facciamo la prossima volta questa volta intanto ciò che mi interessa capire e farvi capire è che noi siamo parte di un insieme e che selezioniamo da quell'insieme ciò che appartiene a noi così la nostra percezione infinita seleziona una percezione di insieme cioè noi percepiamo una piccola parte e facciamo in modo di percepire solo quella piccola parte poi vedremo come questa percezione si seleziona nella pancia della madre e sarà oggetto della prossima trasmissione visto che abbiamo ancora un 5 minuti vi mando un po' fuori di testa con una notizia apparsa su salute della repubblica del 9 novembre 2006 però se avessi avuto gli occhiali avrei letto con più facilità perché vi mando fuori di testa tutti voi sapete che per non invecchiare è necessario combattere i radicali liberi poi arriva la battuta pannella in galera no semplicemente si è visto che i radicali liberi portano a un invecchiamento cellulare però non sono solo i radicali liberi dalla salute di repubblica del 9 novembre 2006 il mistero del topolino millenario un topo selvatico diffuso nelle zone desertiche dell'africa orientale sta mettendo in crisi quello che ora si quello che gli occhi quello che ora si sa su invecchiamento genesi dei tumori e di malattie degenerative l'eterocefalo glabro questo il nome scientifico del topo vive ben dieci volte di più del suo cugino comune 28 anni contro tre quasi mille anni riportato su scala umana nonostante produca molti più radicali liberi e sia anche meno dotato dei sistemi fisiologici antiossidanti che li inattivano la scoperta è di ricercatori della Cornell University di New York e dell'università del Texas a Sant'Antonio e contraddice quella che è bene che è bene ricordarlo è una teoria scientifica basata su evidenze sperimentali la teoria dice che i prodotti di scarto del metabolismo i radicali liberi essendo altamente tossici per le cellule e per il DNA sono la principale causa di invecchiamento di malattie varie ma il topo desertico è un produttore di radicali liberi ben maggiori del topo comune inoltre anche la produzione fisiologica di antiossidanti naturali e di quelli assunti con alimentazione si attesta nel roditore africano su livelli molto inferiori a quelli del topo comune vi devono essere altri meccanismi alla base della longevità dice Blazai Andziak uno dei ricercatori identificarli è il prossimo obiettivo dunque anche se la scienza scopre dei meccanismi quei meccanismi sono delle importanti scoperte scientifiche ma non sono mai la verità rivelata non sono mai la verità ultima sono una verità solo in un certo ambito all'interno di un certo meccanismo mai in assoluto 049 700 e 049 708 ed è bene che ci ricordiamo questo pronto c'è una rivoluzione in corso della conoscenza di questi avvenimenti fisizionali sono Carlo Gepala e allora bisogna che tu sappia che io per la mia parte le sto già sperimentando dal mio corpo e allora ho le belle notizie dal mio corpo come la conoscenza dell'origine del dolore non la trasmissibilità la conduzione l'origine del dolore perché il corpo fa bua ahi mi fa bua hai capito? beh ho capito quello che mi hai detto e ti posso dimostrare quando vuoi come accade perché e farti ripetere l'esperimento ho capito dai ho capito ho capito quello che mi hai detto sì sono chiare le parole sì certo per quanto riguarda la definizione su quel topo è tutto correlazionato a quello che io credo di avere capito ok ciao 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 e si è trasmesso delle cose nuove ok pronto ciao 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 un saluto perfetto come solito sta dentro e comunque no ti immaginate se che c'è un'evoluzione da parte dei certi personaggi quando che che c'è acchitto il primo acchitto e si mette su un gradino no sopra diciamo il resto dell'esistente c'è il resto di animali quando che vediamo che 7 milioni di anni fa i termiti e coltivavano i funghi infatti è giocativo il discorso e ancora adesso che c'è gli dice che l'uomo tramite il messaggio cristiano deve comportarsi in una certa maniera e questo che mi fa venire eh si questo che te fa rivoltare naturalmente il messaggio si è diretto alla gran massa e pian piano insomma di solito se hai delle robe va bene ma tu pensi che il fatto di coltivare dei termiti dei funghi dei termiti in realtà era un rapporto simbiotico con i funghi cioè io ti do qualcosa e tu mi dai qualcosa esatto e se quelli che hai detto che se tutto uno e dove più rapportarsi dove più dare avere nel senso che mi vivo e a terra non mi conglobo il pianeta il cosmo e lo so dentro ora più è il discorso beh va bene perfetto ciao ciao bene io chiudo qui la trasmissione magia stragonaria e paganesimo vi do appunto avremo l'ultimissimo un secondo solo pronto un secondo dimmi certo la verità è indefinita caos ciao ciao bene vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione magia stragonaria e paganesimo speriamo di risolvere tutti quei casini che si sono presentati con le nuove scelte della polizia di stato più che altro l'unica cosa che mi auguro è che la polizia decida di chiarire la sua posizione rispetto a gentaglia come il Don Benzi ciao a tutti e risentirci a giovedì prossimo ciao